Un momento molto importante per due regioni, se l'Italia è una realtà investita, le vostre azienze, praticamente cosa avete realizzato? Qui abbiamo realizzato un ulteriore potenzialmente miglioramento dei collegamenti fra il continente, fra la Calabria e la Sicilia, in particolare attraverso la realizzazione della seconda nave gemella, Sicania, che entra in funzione nel mese di agosto e che raddoppierà la capacità produttiva già realizzata dalla precedente nave. Di che imbarcazione stiamo parlando? Stiamo parlando di un'imbarcazione di oltre 100 metri di lunghezza, dedicata prevalentemente al trasporto del gommato pesante, che tra l'altro è predisposta per i migliori standard di sostenibilità, per accogliere i migliori standard di sostenibilità sotto il profilo della propulsione.